ecco qua ecco qua ollele salve a tutti i ragazzi salve a tutti buonasera buonasera o buon pomeriggio buongiorno o buon insomma vedete voi buonanotte andate a cagare insomma molto classico beh cometta a posto allora salve a tutti i ragazzi allora questo video è molto sarà molto breve molto stretto stretto mi sto riabilitando mi sto riabilitando non ad un tipo di professione non un tipo un tipo di corso e quant'altro mamma mia mi sono appena svegliato mi sono svegliato da poco e mi sto mettendo un po a riprendermi ma mi sto riabilitando per chi mi segue dal canale sul canale nel canale per il canale da qualche da qualche mese ormai ha capito che io ho avuto un intervento al ginocchio ok a causa di un infortunio forse non mi ricordo se l'ho detto in qualche altro video comunque casomando dovrà beccare a causa di un infortunio mi si è lacerato il quadricipite che ha procurato un versamento molto breve di sangue anche a livello del del corpo di offa che si è ipertrofizzato che non è una cosa positiva si è coagulato una parte del sangue praticamente il sangue si è coagulato nel corpo di offa una parte del sangue si è assorbito ed è stato eliminato l'altra invece si è bella coagulata è stato fermato lì dietro il tendine batellare perfetto perfetto non mi faceva piegare il ginocchio non ho potuto fare squat gambe facevo male che spero che pochi capiranno perché è veramente veramente bruttissimo e quando che piegava il ginocchio giustamente comprimeva tutte le strutture che c'erano dietro e faceva veramente veramente malissimo ora l'ho operato e finalmente mi sto riabilitando chi mi segue sui social ha visto che sto ripetendo a fare squat infatti mi vedete un pochettino allargato anche da panciuto tutto quanto perché non mi posso allenare ancora non posso caricare sul ginocchio e non posso fare assolutamente sforzi di nessun tipo però sto ripetendo a fare squat a corpo libero qualche variante qualcosa con la fitball anche con le loop band qualcosa anche con il disco tipo il cycling squat il disco tutti i talloni per scendere per vedere anche il movimento e quant'altro e mi sto riabilitando ragazzi finalmente finalmente il problema che io dovrò mollare tutto tra qualche giorno perché appunto partirò in germania a questo punto quando voi vedete questo video sarò già in germania e l'ho spiegato già in qualche altro video che qualche video lo pubblico prima nella settimana precedente alla pubblicazione qualche settimana qualche giorno precedente alla pubblicazione qualcun altro invece lo registro prima ancora prima comunque ragazzi io mi sto riabilitando spero di portarvi qualche altro video proprio anche così pronto consumo ce li registro e li carico molto diretto questi come avete capito è una rubrica che abbastanza è un po' una mina vagante non ha una direzione c'è nel senso si parla di tutto si parla del niente si parla di avvisi ma soprattutto ha delle caratteristiche particolari non esce un giorno preciso esce ad orari sparpagliati quindi vi tiene un pochettino sulle spine perché comunque la vuole seguire quindi ragazzi io spero spero di poterla portare ancora e ancora perché a me questa rubrica mi diverte tantissimo a me registrare video su youtube mi diverte tantissimo mi fa sentire anche vicino a voi fondamentalmente e come al solito ragazzi se volete le domande se avete delle domande fatele delle curiosità delle perplessità e se volete affrontare un argomento ben preciso ditemelo perché lo possiamo sempre affrontare a me l'avete capito dietro il canale youtube io sono il frontman tra virgolette ma gira dietro un mondo un po' particolare c'è quello del nutrizionista il posturologo c'è tra poco c'è quello che è dell'editing ci sono quelli di me di martedì che avrete già visto forse insomma tante tante altre cose stiamo cercando di prendere un pochettino tutte le branche diciamo ok ragazzi questo era solo un video così ho passato un periodo dove nella fisioterapia ho pensato seriamente che il ginocchio me lo stessero spaccando perché era completamente bloccato e poi invece mi sono dovuto ricredere perché l'hanno sbloccato adesso sto pensando alla fase di potenziamento niente ragazzi quindi io tra poco tornerò e vi manderò altri video buon allenamento da insport ciao